Le Iene, primo ottobre 2019, la settimana della moda di Michele Cordaro. Il buon Michele Cordaro va a recarsi, si reca di fatto a Milano per la Milano Fashion Week, un evento in cui diversi personaggi, diversi esseri umani si esibiscono diventando di fatto dei modelli. Modelli che sfilano, personaggi che fanno parte del mondo della moda e il buon Michele con un pizzico di sarcasmo, aggiungo io, un pizzico di ironia, si fa strada lungo le diverse vie di Milano dove veramente trova una gran quantità di carnevalate. Questo è il mio punto di vista, questa è la mia opinione personale. Tra carnevalate più o meno esose, più o meno visibili, più o meno tangibili, la simpatia, la verba, il fascino, la grinta e, chiamiamola anche quella dose di simpatia, di allegria, viene fuori in maniera diretta, determinata o ben determinabile grazie a Michele Cordaro che sa davvero ingarbugliare, sa davvero confessionare un servizio pregiato, pregevole, simpatico, non volgare ma soprattutto carico di ironia. Vagamente parlando mi sembra quasi come se ieri davanti a me c'era il buon Enrico Lucci quando stava, o meglio quando andava, alla scala di Milano. In questo caso invece si parla di sfilare di moda, la Fashion Week. Complimenti dunque a Michele Cordaro, complimenti dunque anche al buon Enrico Lucci. Un saluto a voi esimi utenti di YouTube, iscrivetevi, commentate e al prossimo video e una buona giornata da voi, da parte di Rilandolo, narratore italiano.